davvero buono il servizio proposto ieri alle ieri 19 dicembre 2017 intitolato vivere senza provare attrazione sessuale a firma di matteo viviani in buona sostanza matteo viviani raccoglie la testimonianza di due persone una di genere maschile l'altra di genere femminile andrea e ambra rispettivamente che ci parlano del fatto che essi non provano attrazione sessuale per nessuno in buona sostanza non avrebbero diciamo così questa chiamiamola capacità questa abilità questa chiamiamola caratteristica che fa parte degli esseri umani che in qualche modo lega gli esseri umani a livello fisico e più che altro sessuale per l'appunto in buona sostanza loro amano a livello più che altro emotivo a livello cerebrale una persona mi sembra di avere capito ma posso anche aver sbagliato di ciò ve ne chiedo subito scusa però insomma in buona sostanza i due provenebbero diciamo così più che altro attrazione verso il lato emotivo il lato cerebrale per quanto riguarda la persona per quanto riguarda una persona quindi un essere umano vi ringrazio in primis per l'ascolto in secondis per la visione i semi utenti di youtube iscrivetevi se volete commentate fatemi sapere cosa ne pensate devo dire che matteo igliani ci parla di un argomento che all'apparenza può sembrare subito può sembrare banale può sembrare all'apparenza anche molto sciocco ma invece è un argomento davvero straordinario e di eccellente curiosità perché sviluppa in titolo avete questo servizio una certa curiosità invita a vederlo il sito per andarlo a vedere a www.iene.mediaset.it purtroppo non è possibile caricarlo qua su youtube perché può eventualmente andare a alledere il copyright della mediaset e la mediaset è una spa quindi una società per azioni quotate in borsa quindi questo è quanto grazie a tutti un saluto e al prossimo video